Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di lunedì 9 novembre. Allora, anche questa volta, durante la salita, hanno fatto la solidità finta, ovvero hanno creato una candela d'oggi, come vi dicevo ieri, che poteva dare l'impressione di un rallentamento del trend e poi, andandoci sopra con un'apertura superiore, l'hanno annullata. Questo che cosa ci dice? Ci dice che probabilmente il nostro decimo t-3 non sia ancora chiuso qui dove poteva essersi chiuso, ovvero questo è il massimo a 19.819 e questo a 19.822, tre tic, vincolavano al ribasso l'ennesimo t-3 inverso e ci dicevano che qui poteva essersi chiuso serenamente appunto il nostro inverso, al decimo t-3 peraltro. Invece, che cosa hanno voluto fare? Apertura ancora in gap up. Ok? Siamo arrivati a 34 candele, per cui si può andare serenamente avanti fino alle 44 e quindi eventualmente anche fino alle 11.30 di questa mattina, ma essendo arrivati ormai oltre alle 32 di media, si può anche iniziare a scendere. A questo punto il processo è sempre il medesimo, ovvero dovremmo andare a vedere che cosa fanno le prime quattro candele in cui solitamente fanno finte, controfinte, qualtr'altro e quant'altro, vedere se viene creato uno swing inverso e a quel punto fare il ragionamento dopo la partenza del t-3 di indice. Qui, peraltro, appunto, su questo minimo, a 19.644 può essersi chiuso il settimo t-3 perché è arrivato a 24 barre minime su fuzzimib e da qui può essere partito serenamente l'ottavo t-3. A questo punto, però, ricordo a tutti che comunque l'inverso comanda. E a questo punto siamo arrivati alla bellezza di 20 barre sul massimo 21 di inverso. Eventualmente, in un'occasione più unica che rara, si potrebbe ancora provare a salire domani, ma poi non ce n'è, bisognerà scendere per un t-1 inverso. Qui, peraltro, a partire da questa candela, non siamo a 9, ma siamo... sì, giusto, era la decima. Qui, peraltro, siamo all'undicesima barra, ok? A questo punto lo segniamo e però a 11 si chiude. Non metto neanche più puntini. 9 più 11. Ok. Per cui mi aspetta una barra di un certo tipo e discesa. Anche se abbiamo fatto questa apertura in gap up. Per quanto riguarda il DAX, discorso molto simile, ovvero... Eccoci qua. Ennesima finta. Per cui qui abbiamo... Da rivedere un attimo la centratura se... C'è stato in qualche cosa... Un'aggiunta di... Anche perché qui abbiamo all'undicesimo t-3. E qui andremo ben oltre le 44 barre. E oltretutto, anche qui, fantastica finta, ovvero... Violazione dello swing inverso, del secondo swing inverso. Quindi, discesa... Tentativo di discesa... Risalita con finta. Quindi, anche in questo caso... L'hanno preparata bene la loro trappola a rialzo. La loro finta ribasso con risalita. Anche in questo caso... Siamo arrivati alla massima estensione, o quasi. Ovvero, con l'apertura di oggi che non si vede, siamo a 11 candele. Ok. Mi aspetto che il massimo che possa fare di movimento sia oggi a rialzo. E poi, eventualmente, se non scenderà già di oggi, con la tecnica che dicevamo del controllo dello swing inverso dopo la partenza del settimo t-3, in questo caso, si possa tornare a scendere. Anche perché siamo veramente tanto tirati. Va benissimo, come partenza, avere qui un t settimanale che dà vita sicuramente a un t più 2, ma che a un certo punto dà anche vita a un probabile nuovo semestrale. Però bisogna che ci siano anche delle pause. E qui abbiamo avuto un t-3 ribassista soltanto al quinto t-3, non al sesto, come facevo notare, che sarebbe stato il movimento corretto per poi eventualmente ripartire a rialzo senza colpo ferire. Però, anche in questo caso, il controllo sull'inverso ci dice che siamo arrivati davvero, davvero a un'estensione tanto alta di un t più 1 e non ci sono a monitor centrature differenti da quella attuale. Ve la faccio vedere qua perché è più semplice come cosa. Qui vi faccio notare, come ho già detto, che ci siamo vincolati a ribasso per quanto riguarda il t più 2, inverso, e quindi a rialzo di indice. Però dovremo avere un ritorno, perlomeno, verso quest'area, dove peraltro c'è un supporto estremamente forte, come vedete, perché ci sono due candele che praticamente hanno un minimo veramente molto vicino, 19.479 e 19.482. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.